Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Dunque a pochi giorni dalla conclusione delle trattative del mese di gennaio si anima di nuovo il mercato della Lucchese che mette a segno il secondo colpo. Dopo Nicolò Fazzi arriva in rosso-nero Francesco Di Santo, classe 1994, attaccante esterno o trequartista. Vestirà la maglia numero 11 e arriva in prestito dalla Virtus Entella con diritto di riscatto a favore della Lucchese. Dovrebbe essere a disposizione di mister Gorgone già per la trasferta di Gubbio. A proposito di Gubbio andiamo nel servizio che abbiamo preparato a ripercorrere un po' anche quelli che sono stati gli ultimi precedenti in casa degli Eugubini. Beh, stavolta possiamo dirlo nella Tana del Lupo, visto che parliamo di Gubbio, Lucchese chiamata domenica nell'ormai rinondante orario delle 18.30 a confermare il buon momento di forma, vallato dai successi con Re Canatese e Padova nella semifinale di andata di Coppa Italia. Vittorie che hanno risollevato la classifica e dato una spinta per cercare 34 anni dopo la finale di Coppa, ma che soprattutto hanno rigenerato il morale di una truppa abilita da una striscia che stava diventando preoccupante. Da lì però a dire che quella rossonera è un'isola felice e ce ne passa, Gorgone deve fare i conti con l'ormai cronica emergenza in difesa e qui non si capisce perché la società non sia ancora intervenuta sul mercato. Benassai vive una stagione difficile sul piano fisico, Sabbione non si è mai visto e lo stesso Tiritiello non è quello dello scorso anno. Domenica la Pantera va a Gubbio, poste rosso-blu di Mr. Braglia, settimi in classifica, la solita squadra, solida e tosta dell'ex trainer rosso-nero. Andando a ritroso nel tempo e restando negli anni 2000, torniamo al 7 settembre 2014. La Lucchese è tornata da pochi mesi in C dopo la fantastica promozione di Correggio. È la Lucchese di Guido Pagliuca che impone il proprio gioco e risolve la contesa nella prima mezz'ora. Le reti del 2-0 portano la firma di due incursori, Nolè e Calcagna. Quella rimane finora anche l'unica vittoria, strappata al Pietro Barbetti. Detto che il 13 novembre del 2021 finì 0-0, ci spostiamo al 1 maggio 2022, il primo turno del play-off in gara secca. Gli Ogubini hanno il vantaggio di giocare in casa, ma la Lucchese, ancora di Pagliuca, gioca meglio e meriterebbe di passare il turno. Al 91esimo però il talentuoso Arena, oggi al Pisa in Serie B, segna il punto che manda avanti il Gubbio e a casa i rossoneri. Ultimo precedente invece senza storia il 18 marzo 2023, circa dieci mesi fa. Il Gubbio vince 2-0, ancora Arena nel lungo recupero del primo tempo, e di Stefano, quando ci si avvicina al novantesimo, confezionano un risultato che non ammette appelli. Completiamo la pagina dedicata alla Lucchese con una foto che vi mostriamo, è quella preparata dai tifosi rossoneri, quasi a celebrare il grande amore che li lega a Jacopo Coletta, il portierone della Lucchese, tra l'altro ospite giovedì sera di Curvo Ovest. Tra l'altro per Jacopo, dopo cinque anni all'ombra delle mura, quello in corso potrebbe essere anche l'ultimo anno in rosso nero. Il contratto di Coletta scade il 30 giugno prossimo, ma è l'amore che i tifosi gli hanno dimostrato anche giovedì sera, è veramente encomiabile. Passiamo al basket, sabato sera torna in campo le mura spring, un le mura spring incerottato. Una partita ad alto coefficiente di difficoltà per le mura spring, sabato sera ore 19.15 sul parquet della PL di Borno. Le Lucchese oltretutto non potranno contare sulla guardia Vittoria Fiedorenco e sulla play Caterina Cerri, mentre potrebbero recuperare Chiara Tessaro. La PL è squadra difficile, benché molto conosciuta nei suoi elementi e con molte ex nel roster. Quella lavronica inoltre è con pagine che non segna molti punti, ma ne subisce pochissimi, e ha in viola Castiglione la top scorer. All'andata, al palatagliate, finì con la vittoria delle Livornesi per 40-59. Questa fase del campionato ha comunque già espresso i suoi primi verdetti e le prime 4 a 7 giornate dalla fine sono già sostanzialmente sicure di un buon posto nei play-off. Lucca potrà permettersi un periodo per tirare il fiato, svuotare l'infermeria e prepararsi alla bagarre finale, che designerà che andrà a giocarsi gli spareggi per la promozione in A2, anche se coach Biagi se la vuole giocare fino in fondo. Noi comunque cerchiamo di arrivare nelle migliori condizioni possibili, sono convinto che chi andrà in campo sicuramente riuscirà a giocare nel meglio possibile con le migliori soluzioni possibili per attaccare il loro gioco che è fatto di una buonissima difesa e tanta energia e tanta aggressività. Sempre il tema di basket, quando si tocca al fondo si può solo risalire, vale per il centro computer Cefa Basket che incassa la settima sconfitta consecutiva nel campionato di divisione 2 regionale, scontro diretto a Piombino e battuta d'arresto dei gialloneri Garfagnini per 54 a 53. In casa Cefa si spera che il girone di ritorno sia foriero di maggiori soddisfazioni, la prima partita però in trasserta contro la polisportiva Chimenti di Livorno, seconda in classifica, non è in tal senso confortante. Un grande risultato per il tiro a segno lucchese, Michele Bernardi ha infatti conquistato una splendida medaglia d'argento nella carabina a 10 metri nella gara pre-europei di Monaco di Baviera. Il giovane tiratore, cresciuto nel tiro a segno lucca ma in forza alla marina militare, era quinto dopo la qualifica ma rimontato fino al secondo posto. Ora l'ostriaco Thomas Matisse e bronzo all'ungherese Soma Hammerl. Grazie a questa magnifica performance Bernardi può rientrare in gioco anche per la qualificazione olimpica di Parigi, appunto le Olimpiadi estive che ci saranno in Francia. In trasserta l'Hockey Forte dei Marmi nella Champions League, un pareggio che forse non appaga del tutto il rosso-blu. L'Hockey Forte dei Marmi in Champions League ha pareggiato 3-3 sulla pista del Deportivo Liseo. Cancela, porta avanti i padroni di casa per il parziale del primo tempo 1-0. Dopo 10 minuti dal via della ripresa pareggia Ambrosio. Riccardo però riporta avanti i suoi. Compagno trova il 2-2. Negli ultimi tre minuti Federico Ambrosio va in rete per il 3-2 dei rosso-blu, ma Riccardo firma il 3-3 finale. Pareggio 1-1 tra Barcelos e Barcellona per una classifica che vede in testa a 10 punti il Barca, seguito dal Barcelos a 7, Forte dei Marmi 4, Liseo Deportivo 1. Tomar Trissino è finita 2-2, Oliverenze Lodi 3-4. Sabato per il campionato di Serie A2 il Cdc Viareggio capolista del Girone B gioca in trasferta al Palamaliseti di Prato. La Farma e Pumas ancora Viareggio ospita il Salerno. La rutellistica Camaiore domenica alle 18 è contro il Follonica in trasferta. Braccio di ferro tra Hockey, Forte e Castiglione che hanno vinto fino ad ora una gara a testa con i versiliesi che hanno conquistato un pareggio in più. Parliamo di podismo a Castelnuovo Garfagnana di Atletica perché sulla pista dello Stadio Nardini c'è la seconda edizione di Corriamo i 5000. È passato poco più di un anno, era domenica 8 gennaio 2023, dall'inaugurazione della rinnovata pista di atletica dello Stadio Alessio Nardini di Castelnuovo Garfagnana che andò di pari passo con la prima edizione del Corri il 5000. La vittoria arrise a Nicolò Bedini del gruppo podistico Parco Alpiapuane in campo femminile ad Andrea Lucaci, sempre dello squadrone bianco-verde. La seconda edizione in programma sabato si presenta quanto mai interessante anche dal punto di vista tecnico, a partire dalle 14.30 saranno ben quattro le serie, tre nel settore maschile ed una nel femminile. Tra gli uomini parte favorito Ghirma Castelli del gruppo sportivo Recchiella che, personale alla mano, potrebbe tentare l'attacco al record di Bedini che è di 15-17. Proveranno a contrastarlo il Livornese del Vecchio e il Fiorentino Cassi che però hanno tempi di iscrizione nettamente superiori. Tra le donne citiamo Marta Micchia, Alice Coltelli, quest'ultima già sul podio lo scorso anno, e la greca Elena Constantos della Sempre di Corsa Team. Verranno premiati i primi cinque classificati, sia in campo maschile che femminile, e nell'occasione ci sarà la premiazione del circuito Thailand del 2023. La manifestazione si avvale del patrocinio del comune di Castelnuovo Garfagnana, in collaborazione con Wisp e Dendu, mentre l'aspetto tecnico ed organizzativo è affidato all'oliatissima macchina del gruppo podistico Parco Alpiapuane del presidente Graziano Poli. E dopo aver ricordato questo appuntamento si chiude la pagina sportiva del TG Noi, la linea balla regia per alcuni suggerimenti commerciali.